Immediatamente ho sentito che non ero più sola. Io sono una mamma single, ho 40 anni e mio figlio ne ha 5. Ho conosciuto il programma Forza Mamme una sera in cui ero particolarmente disperata. Ho preso Google e ho digitato direttamente aiuti per mamme sole. È uscito il banner di questo progetto, ho compilato il form e il giorno dopo sono stata richiamata. In effetti facendo parte del progetto ho imparato moltissimo, ho imparato ad esempio come fare l'ISI da sola, la gestione delle bollette, come richiedere i vari bonus che esistono. Ho ricreato il mio curriculum, sono stata in grado di affrontare un colloquio nel piano delle mie energie perché mi sentivo bene a mio agio con me stessa. Hanno fornito anche degli aiuti economici, buoni spesa, buoni macellaio. Alle donne che sono mamme single e sole io dico non smettete di cercare perché esistono persone e progetti che possono aiutare davvero a fare la differenza.